...attività da parte degli operatori della Polizia Municipale per contrastare e reprimere tutte le condotte in contrasto col codice della strada e con le norme di civile convivenza da parte degli utenti della strada. Certamente il periodo è molto delicato perché il periodo estivo ci sono personale un po' ridotto per le ferie e le tante manifestazioni che ci sono nelle varie frazioni, però c'è l'impegno e la volontà da parte degli operatori sulle direttive stesse dell'amministrazione di dover essere più intransigenti nei confronti di coloro che trasgrediscono l'enorme codice della strada. Questo accadrà anche di sera o la notte? Durante tutto l'orario l'arco di servizio dell'impegno del personale.